Per i ventali di Teva presente anche il segretario generale di cittadinanza attiva e il dottor Gaudioso. Qual è il contributo di un'azienda come Teva per i cittadini? Io penso che Teva abbia presentato una grande innovazione nel nostro paese, anche per raccontarci che ci sono tanti modi per innovare. Teva è un'azienda che fa moltissima ricerca, questo smentisce anche il luogo comune che i produttori di generici e biosimilari non la facciano. Quindi benefici anche in termini di nuove possibilità per i cittadini, sia in termini di salute pubblica sia in termini di risparmio. Con l'utilizzo di generici e biosimilari i cui risparmi possono essere utilizzati e reinvestiti per innovazione nel servizio sanitario nazionale. Quindi l'importanza di Teva in questo paese è anche per dire che c'è un nuovo modo, un modo diverso di intendere innovazione e ricerca in questo paese di un'azienda che in solo i vent'anni ha raggiunto risultati molto importanti. Io aggiungerei a questo punto che Teva è importante anche per l'occupazione, i numeri lo dicono, tantissimi posti di lavoro e anche posti per le donne. Il 50% delle persone assunte è proprio donna. Che cosa ne pensa? Beh, è una notizia molto importante. Lo è da molti punti di vista, sia per le persone che ci lavorano, sia come segnale per le altre aziende che questi numeri non ce li hanno. E che questo venga da un'azienda molto giovane, anche in termini di presenza nel nostro paese, perché parliamo di un'azienda che c'è da 20 anni circa, ci dà anche l'idea di come si può essere attenti allo sviluppo della società guardandosi anche un po', diciamo, non solo a proprio umbilico. E il fatto che l'azienda l'abbia fatto in questo modo è sicuramente una cosa meritoria. Quali sono quindi i punti fondamentali che un'azienda dovrebbe rispettare per rispettare contemporaneamente anche i cittadini? Beh, diciamo, da questo punto di vista, esercitare la propria attività di impresa in modo corretto e trasparente. Quindi non bisogna fare delle cose particolarmente straordinarie, però essere un'azienda farmaceutica, farle in modo rispettoso delle regole, investire in innovazione, avere attenzione anche ai bilanci della comunità, sia in termini di risparmi che si hanno, ad esempio in questo caso attraverso il corretto utilizzo di farmaci generici e biosimilari, sia in termini di rapporto, ad esempio, tanto con le associazioni dei pazienti che sono uno stakeholder fondamentale, quanto con i temi della diversità e l'aspetto dei rapporti di genere, così come giustamente veniva evidenzato due minuti fa. Secondo me non è solo un buon modo di fare l'impresa, ma è un modo per l'impresa di essere cittadino in una comunità che cambia radicalmente. I parametri dello sviluppo economico e sociale non sono più quelli del secolo scorso, ma non sono neanche più quelli di trent'anni fa. E che qualcuno si interroghi e soprattutto di risposte concrete è un buon segnale, non solo per l'impresa, ma per tutta la comunità.